Da quando sono nato sento parlare di uguaglianza, che dove siamo tutti uguali, abbiamo una Costituzione che conferma che siamo tutti uguali, ma di fatto poi non siamo assolutamente tutti uguali e le dimostrazioni sono anche facili da fornire. Recentemente per esempio sappiamo tutti che una banca importante, la più antica d'Italia, forse anche del mondo, il Monte dei Paschi di Siena è stato sul punto di saltare per aria perché male ha amministrato, ma può succedere, è successo non soltanto in Italia ma anche in altri paesi che qualche banca abbia fatto una brutta fine. Nel nostro caso invece, nel caso del Monte dei Paschi, dobbiamo fare una piccola riflessione. I poveracci, cioè la gente comune che ha bisogno di comprarsi una casa perché gli affitti di mercato sono piuttosto elevati, allora fa un ragionamento molto semplice, anziché pagare l'affitto mi compro un quartierino, un appartamentino, faccio un mutuo, pago la rata e finché ho un posto di lavoro sono tranquillo, quando poi avrò pagato il mutuo e sarò vecchio non avrò il problema di cercarmi una casa con una pigione bassa, anche perché non si trova. E allora cosa succede? Che i poveracci vanno in banca, fanno il loro bel mutuo, di solito gli viene anche concesso, ma sull'appartamento che comprano scatta l'ipoteca, cioè la banca ti presta i soldi ma ha la garanzia della casa stessa. Se per caso tu un bel giorno non riesci più a pagare il mutuo, dopo 4-5 rate che non riesci a versare, ti portano via la casa, la vendono, si pagano, recuperano il credito e finisce lì. È un trattamento, diciamo così, piuttosto inflessibile. Ebbene, invece, al Monte dei Paschi, circa 600 persone hanno ottenuto prestiti ingenti per 22 miliardi, 600 persone hanno incassato 22 miliardi e non hanno fornito nessuna garanzia. E qui allora ci domandiamo perché coi poveri siamo cattivi e gli ipotechiamo la casa mentre ai ricchi, gente che sperpera soldi, diamo una montagna di denaro senza avere una garanzia, tant'è che adesso quel buco, quel buco di 22 miliardi lo deve pagare qualcuno. E chi? Lo Stato. Lo Stato interviene, ma lo Stato siamo noi, sono soldi nostri, quindi siamo disuguali perché noi dobbiamo pagare anche i debiti dei ricchi, mentre i poveri i loro debiti se non riescono a pagarli scattando l'ipoteca, ecco che sono costretti a cedere la casa. Quindi l'uguaglianza è una cosa seria, non è un concetto astratto, è un concetto pratico che riguarda anche i quattrini, perché tutti dicono che i quattrini non sono la cosa più importante. Peccato che tutte le altre cose se non hai soldi e non te le puoi permettere. Quindi uguaglianza significa scendere dalle nuvole e camminare con i piedi per terra e imporre un minimo di giustizia e quindi di uguaglianza.